Sono stati dei giorni assolutamente molto leggeri per quanto riguarda il mercato delle cripto, quindi sali e scendi, sostanzialmente una barra di congestione con il prezzo assolutamente immobile di Bitcoin, forse come non si vedeva da mai ragazzi, perché io veramente mi ricordo anche quello degli anni scorsi, quando eravamo intorno ai 6.000 dollari, veramente siamo stati fermi per mesi e mesi e mesi, ma non così fermi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video in vacanza, la vacanza della settimana di ferragosto e anche i mercati sono in vacanza, se non che comunque per chi di voi avesse seguito quello che è stato l'ultimo mio video di venerdì scorso, si può ritrovare alla perfezione con la chiusura del ciclo settimanale di Bitcoin proprio nella giornata di domenica. A cavallo a dire la verità era lunedì perché erano le due di notte di questa mattina, però diciamo sostanzialmente la chiusura del ciclo probabilmente settimanale avvenuta proprio nella giornata a scadenza con quella che doveva essere la domenica, domenica notte o lunedì mattina. In questo caso è più facile vedere questi tipi di movimenti, soprattutto quando la volatilità si azzera perché chiaramente i mercati non vanno da nessuna parte, però sembra proprio un richiamo a questo tipo di andamento. Andamento che poi alla fine è stato confermato, se vi ricordate da quel video eravamo in questa zona, alla fine il mercato ha confermato esattamente lo stesso andamento precedente, che non faccia anche qui la stessa cosa, una nuova onda replicata nello stesso identico modo. C'è un livello che possiamo già vedere nella giornata di oggi che sancisce secondo me l'inizio anche di questa fase rialzista, che comunque dovrebbe stentare ad arrivare soprattutto nella giornata di domani, però ragazzi a volte quando i mercati sono poi sottili come in queste giornate con il ferragosto, insomma giornate di vacanze eccetera, a volte fanno anche delle impennate o dei crash veloci proprio per il fatto che siano estremamente sottili. Prima però di andare avanti volevo farvi vedere quelli che sono i dati attesi di questa settimana e poi parlare anche della questione legata alla SEC per quanto riguarda l'approvazione degli ETF, che secondo me potrebbe essere una di quelle variabili di cui dobbiamo stare a ragionare per una serie di motivi. E ci sono una serie di cose di cui volevo parlarvi insomma per iniziare a prendere spunto anche perché di analisi c'è ben poco da fare visto quello che ci siamo detti, quindi vi do solo la dritta relativa ai livelli di pricing, a livello di breakout importante per rilanciare magari questa settimana. E boh, il resto è identico a quello che ci siamo detti nei giorni scorsi. Allora partiamo per questa settimana, domani sono previste le vendite al dettaglio insomma dati relativi alla questione legata all'economia americana. Non c'è granché, vi dico già francamente, se non che mercoledì verbali del FONC, che dovrebbero comunque dare un'indicazione ben precisa, cioè il fatto che sostanzialmente nel prossimo meeting che avverrà a settembre, il 20 di settembre, la Fed non alzerà i tassi perché farà un altro mese di stop e poi alzerà un'ultima volta probabilmente verso la fine dell'anno. Quindi sostanzialmente anche qui io non credo che questi dati causeranno una sorta di volatilità importante, a meno che non ci saranno grandi cambiamenti relativi per esempio alle richieste di sussidi di disoccupazione che non sembra proprio avvenire ragazzi, anzi la disoccupazione è attesa in calo. Comunque è incredibile come sono state stabili dall'inizio dell'anno quando abbiamo parlato anche di questa variabile, quando vi spiegavo come era importante la richiesta di sussidi di disoccupazione per far cambiare politica fiscale alla Fed. Insomma non è avvenuto minimamente. Poi c'è il tasso di inflazione europeo atteso in fase ribassista ma ancora altissimo, oltre il 5%, lontanissimo dai target del 2% annuale, quindi continuerà sicuramente la Banca Centrale Europea a mantenere i tassi di interesse alti, ma soprattutto a continuare ad alzarli fino ai target che probabilmente saranno simili a quelli della Banca Centrale Americana. Tra le altre cose su questa falsa riga bisognerebbe anche ricordarsi che ha impatto, che è molto diciamo legato su questi dati, l'indice di XY che sarebbe l'indice della forza del dollaro rispetto alle altre valute. Adesso vediamo se riesco a trovarlo. Trovarlo, dove l'ho messo? Quello qui ragazzi è spuntato, il DXY che tra le altre cose se noi lo analizziamo sul grafico di natura settimanale ci rendiamo conto di quello che era la questione che vi dicevo già da un po' di tempo, cioè la chiusura di un maxiciclo a 15 anni per quanto riguarda il DXY, quindi l'indice della forza del dollaro, anche se molti continuano a pensare che il dollaro possa essere, diciamo, possa crashare ancora, a livello temporale fino alla fine dell'anno potremmo assistere a questi alti e bassi, però a livello di analisi ciclica, di lungo periodo appunto sui 15 anni, tempisticamente non fa la differenza alcuna, 1-2 mesi, quindi questa zona è tutta una zona di minimo per quanto riguarda la forza del dollaro, quindi ciò indicherebbe che il dollaro da qui tra un po' potrebbe iniziare a riprendersi rispetto anche alle altre valute e facendo comunque un nuovo trend, che poi sia un trend esponenziale così non credo, questo per una serie di motivi, però sostanzialmente bisognerebbe andare molto a guardare quella che è la questione legata anche all'equilibrio dei tassi di interesse, quindi come vi dicevo anche la controparte ovviamente del dollaro importanti sono quelle relative per esempio all'euro, alla sterlina, allo yen, allo yuan cinese, anche se quello diciamo è piccolato diciamo a livello di mercato eccetera, comunque soprattutto l'euro impatta in maniera consistente su questo indicatore, su questo grafico e quindi ragazzi cosa significa? Che il mercato ha già scontato che la BC alzerà i tassi come la Fed, quindi sostanzialmente il gioco è già stato fatto e quindi la forza dell'euro poi si baserà probabilmente sulla questione di natura economica, che ovviamente impatta poi dopo la questione della politica monetaria. Nel momento in cui guardiamo però i dati economici sicuramente gli Stati Uniti al momento sembrano avere un'economia più reattiva rispetto a quella europea e quindi potremmo comunque assistere anche a un recupero del dollaro, magari una barra di congestione. Fermo restando che 1, 2 sono i livelli da battere e che al momento il trend resta assolutamente ribassista in questa fase, però non è detto che continui così, perché a livello tempistico ci siamo, se superiamo i 105-106 di questo indicatore qui indicherebbe l'inizio del nuovo ciclo annuale, quindi manca poco anche per avere informazione. Ovviamente un nuovo ciclo annuale non è indicativo di un inizio di un 15 anni, però comunque lo possiamo già iniziare a valutare. Sostanzialmente da questo punto di vista ragazzi, vedete, qui siamo arrivati a 924 giorni da questo MIGO, che comunque corrispondono più o meno a 3 cicli annuali, circa 3 cicli annuali, un po' di meno, però è anche stato ribassista, quindi ci può stare. Quindi anche i dati ci mostrano che sostanzialmente stiamo andando verso un periodo probabilmente di stasi di questa struttura dei prezzi, quindi dove magari il DXY potrebbe stare in questo modo proprio perché la politica monetaria ha fatto i suoi giochi, quindi la questione poi sarà totalmente inviata diciamo alla questione di natura legata al PIL, al tasso di crescita, all'inflazione eccetera. Parliamo della SEC e della questione degli ETF, ragazzi. Allora, i prossimi mesi, dopo l'estate, dopo agosto, saranno tutti dedicati all'attesa di questa final deadline relativa a tutti questi ETF, ETF estremamente rilevanti, tra i quali il più rilevante senza ombra di dubbio, l'ultima deadline che è il 15 marzo del 2024 relativo all'Ishare Bitcoin Trust di BlackRock. Però, ragazzi, c'è anche da dire una questione. Sull'ARC21 Shares Bitcoin ETF forse la Fed potrebbe ancora tirarsela, diciamo così. Però poi, guardate cosa succede a marzo del 2024, succede una carrellata dal 14 al 15 al 19 marzo di ultima istanza, cioè di ultima data, dove la Fed può parlare della questione ETF. In pratica, ragazzi, se c'è un sentore, un sentore, che l'ETF possa essere approvato dalla SEC a marzo per tutti questi competitor, perché è difficile, ragazzi, che venga approvato solo per uno. Probabilmente o lo sarà per tutti o per nessuno. Quindi se la SEC farà questa approvazione, è da settembre-ottobre in poi che si vedranno questi effetti, perché già da adesso, diciamo, il mercato inizierà, adesso siamo al 15, quindi tra qualche giorno, il mercato inizierà a scontare una fase di salita che deve inglobare questa approvazione di questi ETF. Quindi la questione sarà delicata, ragazzi, perché marzo non è vicinissimo, però non è neanche lontano. Quindi il mercato potrebbe anche decidere di fare un appettino, una scadenza ciclica di chiusura dell'annuale prematura, e poi ripartire a rialzo proprio perché se venissero effettivamente approvati questi ETF sarebbe un boom di notizia. Tra le altre cose poi potrebbe anche coincidere con il famoso sell on news, quindi in pratica con un massimo di periodo che potrebbe essere proprio relativo a marzo, ma di questo magari ne parliamo poi nei prossimi mesi, perché è interessante. Però la mia opinione ve la do, ragazzi. Se c'è sentore all'interno del mercato che questi ETF vengano approvati, i prossimi mesi è difficile assistere a crash importanti. Probabilmente il mercato chiuderà poi i cicli annuali, come abbiamo visto, oppure sta facendo degli annuali ternari e quindi ha già chiuso l'annuale, non ce ne siamo accorti perché è un movimento più piccolo, ma sostanzialmente farà dei crash leggeri, delle fasi di attesa probabilmente, perché se poi c'è il sentore che questi ETF vengano approvati, o se magari la SEC lascia traperare qualcosina, inizierà la corsa all'oro, anche perché dovendosi imbottire, tra virgolette, di Bitcoin spot, tutti questi operatori istituzionali, insomma, la faranno da padrone. 2024 potrebbe essere un anno in cui le crypto ritornano in auge in maniera consistente, e soprattutto un anno in cui Bitcoin diventa non mainstream, non in adoption adeguata, però con un primo tassello, cioè una prima porta aperta verso quelle che sono le banche d'affari, chiamiamole così, quindi gli operatori istituzionali che poi lo smerciano, tra virgolette, un po' ovunque, nei vari fondi, eccetera, ma lì poi diventerebbe poi anche una questione legata al fatto che molti si informerebbero su questa cosa, i promotori, quelli che vendono questi ETF, eccetera, insomma, o chi vuole inserirli, magari nella propria offerta bancaria. Quindi lì si innesca, diciamo, una nuova spirale rialzista che è molto importante, secondo me, anche per, diciamo, queste, questi periodi, diciamo, per queste fasi. Allora, qui abbiamo, in sostanza, una serie di dilate, che però la final deadline è marzo del 2024, quindi, c'è anche gennaio 2024, per quanto riguarda l'ARC. già questa potrebbe essere una bisaglia, però il fatto che sia molto prima delle altre, non so, ragazzi, se approvano l'ARC sicuramente si dà per scontato l'approvazione anche delle altre. Mi sembra un po', no, troppo facile, approvano una e l'altra è già approvata per sicurezza, anche per, diciamo, con quasi sicurezza mi sembra un po' con eccesso. Comunque, questo è un dato che bisognerà andare a guardare. Partiamo poi alla questione che vi dicevo, che tra l'altro in questo momento Bitcoin sta tentando proprio il breakout del livello, quindi giusto per chiudere il video con un'analisi di breve periodo, questo livello qui che è circa quello che sta toccando in questo momento, quindi i 29,5, dai 29,5, più o meno questa zona qui, dai 29,5 fino ai 29,6, insomma, questa zona, quest'aria, è un'aria di livello di resistenza, che però indica anche, a dire la verità, da un punto di vista ciclico, l'ha già indicato in questo momento, prima ne stavamo parlando, ma il mercato poi si muove anche mentre parliamo, indica che qui è iniziato probabilmente un nuovo ciclo settimanale di Bitcoin, ciclo settimanale che appunto potrebbe innescarsi come i precedenti con un'app e poi un andare in bassista, un'app e poi un andare in bassista. A me non piace ragionare così perché la ripetitività la vedo una bancomat la vedo un passo gratis ai mercati non danno pasti gratis, però è anche vero che siamo in un periodo di estrema pausa riflessiva dei mercati e quindi spesso in questo caso si ragiona molto per attività dei trader e i trader spesso amano invece la ripetitività per ovvi motivi perché fanno un sacco di soldi sulla ripetitività scusate e poi a quel punto quindi risulta più semplice tradare questo livello quest'area qui è un'area importante se il breakout viene realizzato con una chiusura di almeno una candela oraria al di sopra di questo la possibilità che bitcoin vada addirittura a fare nuovi massimi intorno a aria 30.500 di questa fase intendo ragazzi non nuovi massimi di periodo di questo ultimo mese mese di agosto intorno ai 30.500 30.600 c'è tutta prima di andare magari a chiudersi un altro ciclo di natura settimanale quindi da un punto di vista di trading se volete farlo sotto il sole sotto gli ombrelloni questa è sicuramente un'operazione che può essere definita un'operazione interessante da un punto di vista invece di medio lungo periodo c'è da dire che non si è capito se il ciclo mensile di bitcoin quello corto è stato chiuso sul minimo del giorno dell'1 agosto o sul minimo del 7 agosto io un po' il dubbio ce l'ho perché il movimento sostanzialmente di questa struttura e di queste fasi potrebbe essere indicativo solo di una fase di rimbalzo qui e non con questa up and down troppo veloce forse non adeguato quindi a livello di prezzo magari questo minimo è stato fatto l'1 agosto ma a livello temporale quindi ciclico secondo me la fase ciclica è stata chiusa intorno al 7 quindi sto spaserebbe un po' i giochini spostando probabilmente questo mensile che dovrebbe poi andare a chiudersi magari entro la fine del mese di agosto spostandolo più in là perché se io lo vado a mettere qui vedete che poi la struttura potrebbe portarci direttamente a un mensile standard che va al 10 settembre quindi questo lo scopriamo tra poco però cambia perché perché significa che i prossimi giorni anche un breakout vedete importante e soprattutto che vada al di sopra anche vi faccio vedere questo livello che è interessante a livello di chiusura daily è molto interessante che va al di sopra dei 29.800 è indicativo che qui è iniziata una nuova struttura ciclica in questa zona ed è importante perché poi sancisce una possibile fase up per tutto il mese quindi questa zona il 29.500 fino a 29.800 è tutta un'area di resistenza quindi di breve abbiamo i 29.500 29.600 di medio abbiamo i 29.800 che sono però vicinissimi basta un punto percentuale quindi se il mercato tira su la prima probabilmente tenterà la seconda una chiusura daily al di sopra dei 29.800 è importantissima perché sancisce l'inversione di questa fase quindi dice bye bye a questo trend ribassista ok vediamo che succede fatemi sapere come state operando se è stato operando intanto tanti buoni festeggiamenti di Ferragosto da parte mia divertitevi mangiate non bevete troppo se dovete guidare come sempre ma ovviamente buon bagno buon divertimento e auguroni a tutti ciao ragazzi grazie grazie grazie